Siamo in questo stand gustosissimo, abbiamo già assaggiato dei formaggi di salumi buonissimi, sono con Casimir Rivittorio e adesso parliamo appunto di questi prodotti. Che cosa proponete qui a Cibio? Niente, è l'anno zero per noi perché è la prima edizione che facciamo qua, abbiamo sentito in giro che è una manifestazione di nicchia, che è quello che noi stiamo cercando a livello nazionale e non solo. Per cui noi produciamo e facciamo prodotti di nicchia altamente qualificati e selezionati da noi, per cui insomma ne valeva la pena, sono convinto che verrà fuori anche dei buoni risultati. Prima mi hai fatto assaggiare due formaggi buonissimi, uno più buono dell'altro, quali erano? Allora il primo, il nostro cavallo di battaglia, è la lacrima della miata, è un formaggio stagionato tre anni in una grotta di roccia a 1350 metri di altezza sul Monte Amiata, la località è Roccalbegna, praticamente è la vallata e guarda la maremma, Monte Amiata, versante Siena, versante Maremma. Per cui è la succa che lo produciamo, la succa che lo commercializziamo e poi dopo lo vendiamo appunto in queste manifestazioni. L'altro formaggio è un formaggio affinato alle pere, di solito lo mangiamo staccata la cosa dal formaggio con le pere. E noi abbiamo trovato, abbiamo selezionato e affinato questo formaggio e lo rende unico, perché per arrivare a questa perfezione abbiamo buttato via soldi e tempo, ma ora abbiamo un prodotto costante che ci permette di fare questo altro di qualità. Unico tra l'altro? Sì, penso proprio di sì. E invece per quanto riguarda i salumi? I salumi abbiamo della soprassata, non so da queste parti come si chiama, ma insomma noi in Toscana la chiamiamo soprassata. È una particolarità che abbiamo all'interno delle verdure. Prezzemolo, abbiamo degli agrumi, che è le scorze di arancio e scorze di limone, sale, pepe e viene fuori un prodotto veramente particolare, a differenza di tutti insomma. E poi abbiamo la nostra finocchiona sbriciolona, che anche questa è una delizia, in alcuni momenti dell'anno ancora di più, perché si pensa a maggio, quando c'è il pecorino fresco fatto proprio buono, è un grande abbinamento. Noi in Toscana veramente... Siete fortunati in Toscana alla fine. Molto probabilmente sì.